Allora mister, una vittoria meritata, contenendo bene una squadra che non era un avversario semplice e un altro passo in avanti. Sì, ci siamo guadagnati un altro spareggio. Noi dovremmo affrontare le gare una alla volta, ma se fosse l'ultima, dobbiamo avere questo tipo di mentalità. Regalare poco, qualcosina abbiamo regalato oggi e dovremmo cercare di migliorare la manovra, anche se la manovra oggi, il campo non era in perfette condizioni. Potevamo fare meglio sotto il profilo la manovra, però la squadra ha fatto una buona partita.